Il crowdfunding è un metodo di finanziamento alternativo e completamente digitale attraverso il quale una società, un proponente di un'iniziativa che può essere lo sviluppo di un prodotto, di un servizio o anche di un'iniziativa sociale, riceve dei capitali e dei fondi da una moltitudine di persone e una volta realizzato il progetto restituirà ad ogni singolo investitore il prodotto stesso o il servizio stesso oppure un beneficio economico.